musica 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 di che si abbassa la preparativa che figo si abbassa e si alza il livello qui dobbiamo allagare uno dei campi apri l'acqua l'uno l'uno deve essere sotto l'acqua qui l'avverto sarà al sinistra guarda ma dove sai che passa? ah dentro il pari è qua si alza il livello è un po' di pazienza forse dovete fare andamati in tempo veloce si si guarda qua guarda in fondo ah è qua si si è qua ah si si è qua ah si si è qua no è il trattore che si pianta dai no via via eh che si arriva molto se che è massimile sennò ti piantavi con questo qua e su asso di io dai beh ma dai che è lo beffine quindi nel tempo mio no no appena dico su c5 non un dm dentro un tm dentro ma m Promocchio e ancora la acqua resta più forte ok dm ok qua quale sto allara dentro Ok. No, sta salendo sempre di più, eh. Guarda l'acqua! Oh, ma c'è un fosso qua! Ah, ok. Guarda, guarda! Quanta acqua qua! Guarda quanta acqua! Guarda che qua si vieni qui. Guarda, devi stare a fotografa! Guarda, devi stare a fotografa! Ah, vuoi se c'è qualcuno a saltellare! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda, ma guarda quanto è alto qua! Wuhuuu! Eh dai, sarà una nuova disciplina in strato delle fosso! Che magna! Oh, adesso proviamo di traverso! Perché momento ignoranza? Ah, beh, ovvio! Oh, ma! Come è la quattro asci? Sui vialetti stretti? In che caso? La roba è ambigua! Penso cartelli piegati, qualche danno, laggo, E comunque qua vedo un bel quattro asci che devi rubare la magia padre! Sì, sì, beh, ha creato un ascio e qualche muretta! Tutto quello che ha avuto! Cingoli in ferro! Occio! No! Guardi, cingoli! Non so che c'è! Oh, è il cancello! Oh, adesso quel cancello! Oh, il cancello! No, il cancello! No, il ferro ha battuto! Eh sì! Ah, come fuori il cancello ha battuto dopo, come sa! Tu vedo molta ignoranza qua! A posto! Il mio con il trattore qua! Occio! Ehi, Marco! Oh, beh, perfetto! Ah, che bello! Con l'assessi sparato! Tuning! Tuning! Sai che parte pararia magari? Eh! Perché devo sempre essere accoppiato da gente un pochettino? No, per se no saltarsi in un'aria! Aspetta che salta la cpu dopo che vediamo tutto! Andiamo a fettino ai parkinson per il trattore! Ma perché è maco da fare gli abomini con le gemellate? Bello! Ah! Fagato! L'8 e 15! Perché eravano appena? Ehm, perché vedo cose capotate? Perché mettiamo? Adesso sto mettendo in ordine la green! Bello il deus! Figaro! Come ha detto? Ah, è Lamborghini! Ah, questo lo dici! Ah! Ah beh, sì! Mi fine li assomiglia! Sono cambiato un pochettino i colori! Oh, che bello! Eh! Eh! Cosa? Eh sì! Ma dai che cosa le palle? No, cosa? Ma, ma... No! Vaglio! Porco che schifo! Ma non ancora mia! Non offendere! Non offendere! Non offendere! Parecchio! Parecchio! Vabbè che merda! Si tutto è arancione! Ha manco a fare i parafanghi bianchi! Ha manco a vendere qui! 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 Quindi, pazienza! Usirà dopo aver fatto i primi acquisti! Perché si è attualmente! Eh! No! Casino! Perché cazzo? Potete buttarmi su quel... Aspetta! 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 Manca sempre un trattore! No! Marco! Non sta inventando di partire il cucchiolino? L'è il primo! Perché no? L'è un bel... Ma lì il trattore... Aspetta! 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 A parte, io vi è successo di questa madre! Ok, da questo tipo! Ah! Che cazzo che butta... Animorche a casa... Oggi ho detto che si è scontato da te anche di me... Oggi! va va va! va che macchina! madonna che volo! va che ti sbranches l'altro dop, e tu ti ho detto... va la macchina! hai fuori un monovomere là vada 1104 cavalli vuol dire un 50 bomber, la spingiamo, sennò consuma troppo rosso cazzo ho un barco vasà in faiamento questo lo fottuto perchè c'è una fresa rosa e qualcosa di candelotto? ecco, adesso stiamo a volar via orco, cosa cazzo è tutto adesso? 2-3 assi con colori ovviamente urribili no dai, a parte la scritta Bazzelli fa schifo bisognerà spostare un po' quella roba se no non c'è perchè c'è un 1-3 sopra il tetto non è un 1-3 è un 780 allora non è un 880 ecco, è un 880 come fa a confondere un 1-3 con un 780? almeno dovremmo aver preso tutto quello che si è giusto in modo roba questa è una orza, ne penso che si abbia paura vedo tante animazioni che tirano sulle leve del cambio la grazia è quello che ti tirano su ma non sei che cambia tutte le margiche se hai due margiche si spostano si, dopo il resto è il fuoco nooo, volevo andare su due ruote io non rubarmi le cose eh comunque manco ha un minimo di animazione hai detto, è in penna anche tra quanto potente che è adesso è però serissimo non so se il rabbit è capace ma che va l'olio in testa, addio ecco, dopo rimane con il motore perchè c'è roba la batata? no perchè c'è cazzo sta trombando il coso oh no ma a caso che se il muretto no ahahah a posto hai risato ogni problema d'un massitua peso come un salame ahahah, ha un po' che pende vedo che cerca anche di cambiare marcia lag mi ha curioso anche la chiavetta porco il signore cane quindi a volte non funziona la craccia la eh ho visto è come il solo truck a volte va a volte non va la forse dipende a mare dal l'astroco o quello che fa adesso va, adesso va è vero? no da me no, non va e non lo sento io ho preso dopo un secondo ma ti che è sparito perchè devi mettere questi abomini e definirti uno che ha occhio per le cose ah si si muove anche si vedi che il gardano svolacchia si è scollegato e con questo abbiamo concluso grazie dell'attenzione e arrivederci e l'arraga